Anche la scorsa estate sono stati numerosi gli incidenti che hanno coinvolto i lavoratori del settore agricolo, a causarli in molti casi un parco macchine molto vecchio. Per rinnovare i macchinari e garantire maggior sicurezza sui luoghi di lavoro c'è ora un'opportunità che arriva dal bando INAIL-ISI 2021. L'occasione, sottolinea la Coldiretti, è di quelle da non lasciarsi sfuggire per le imprese agricole. Il costo dei mezzi è infatti una delle voci di spesa maggiori per gli agricoltori. Scade il 16 giugno la presentazione delle domande. Successivamente, entro settembre 2022, l'INAIL comunicherà la data del click day che sancirà chi potrà accedere ai finanziamenti. Il bando finanzierà dal 40 al 50% del costo per l'acquisto di trattori, a patto che venga rottamato un trattore antecedente al 1996, oppure ne venga permutato uno la cui prima immatricolazione sia stata effettuata tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 2009. Finanziamenti con le stesse percentuali anche per le attrezzature agricole. Oltre all'obiettivo sicurezza c'è anche quello di abbattere le emissioni inquinanti. Tutti i dettagli del bando, con i vincoli necessari, si trovano sul sito www.inail.it.